Io credo sia stato un bel segnale da parte di tutti, della squadra, del pubblico, in un momento così delicato, sia dal punto di vista della classifica che dal punto di vista societario. Abbiamo dato un segnale di grande compattezza, di grande attaccamento ai nostri colori. Abbiamo dimostrato al Presidente che vogliamo raggiungere il nostro obiettivo e che ora la priorità è proprio quella, quella di concentrarci su queste tre partite e poi sperare che si risolvano altri problemi, anche importanti. È ancora durissima, forse per la prima volta della stagione nell'ambiente di Terramano la salvezza non è utopia. No, perché per la prima volta ci troviamo sempre penultimi in classifica ma appagliati alla terza ultima e a solo due punti dalla quarta ultima. Abbiamo il destino nelle nostre mani, il sabato di Pasqua è stato molto bello perché abbiamo vinto una grande partita in casa e i risultati ci hanno dato ragione, quindi abbiamo passato una bellissima Pasqua. Però abbiamo ancora tre partite, la prossima è Cremona, ci dobbiamo concentrare esclusivamente su Cremona, è una partita molto difficile ma io credo che adesso abbiamo veramente il destino nelle nostre mani e vincendo a Cremona sarebbe una grande spinta verso questo obiettivo. Quale giudizio dà di difficoltà le ultime tre partite per il Terramano? Come calendario è sicuramente un calendario abbastanza difficile perché incontriamo squadre che potrebbero avere degli obiettivi, forse solo Cremona ha bisogno ancora di una vittoria però non ha reali obiettivi. Però sia Caserta che Bologna avranno gli obiettivi dei play-off per cui in trasferta è sempre più difficile giocare e vincere soprattutto le ultime giornate. Però noi dobbiamo sopravvivere, dobbiamo andare a Cremona e giocare con la stessa energia e la stessa voglia con la quale abbiamo affrontato Montegranaro. Per cui giocare su ogni pallone, su ogni possesso e poi vedere il score finale.